L'ultimo video della salata prima di andare a dormire, le mie solite due ore e mezza, e ultimo articolo letto poco fa. Di nuovo, questi attivisti di ultima generazione, che non sono diversi da tanti altri movimenti, cambiano solo il nome ma sempre quello è, hanno fatto la loro giusta rappresentazione di protesta per chiedere all'intervento, allo Stato, a chi di dovere, insomma, di intervenire concretamente sulla questione del clima. Ora, a parte che erano in cinque, e lo dico sorridendo, vi fate sorridere, perché oltre ad aver causato un po' di casino per le strade, non avete risolto assolutamente nulla, se non beccarvi una denuncia, eccetera. Quindi, l'invito è, ma non sarebbe meglio invece di scendere in strada, andare direttamente ai vertici, a fare un sit-in lì, che magari la gente, anche come me, comprende un po' di più, oltrimenti venire come me nelle fabbriche che inquinano e documentare le cose. Insomma, bisogna dare concretezza alle azioni, anche di disobbedienza, altrimenti, ve lo posso dire da uno che ormai ne ha fatte tante, risultano solo delle pagliacciate che non portano a nulla. E lo dico da attivista che di manganellate ne ha prese, con giusta causa, perché credo fermamente in certe cose, ma non è il metodo giusto, sono pagliacciate, sono gesti che alle persone comuni non importano a niente, come non importano agli stati. Queste azioni portano solo scompiglio, portano solo l'ennesimo articolo di giornale che non farà altro che non fare passare il messaggio per quello che dovrebbe essere. Questo è il mio pensiero e ne sono più che convinto. E se vogliamo incontriamoci, ne discutiamo su questa cosa qua. Buonanotte a tutti intanto.